Per preparare la pasta e cavolfiore al forno abbiamo tagliato e sbollentato il cavolfiore, poi abbiamo stufato la cipolla tagliata finemente con poca acqua, poi abbiamo aggiunto olio e lasciato soffriggere. Abbiamo aggiunto il cavolfiore e cotto fino a che il cavolfiore non è stato dorato. Abbiamo aggiunto il pomodoro, aggiustato di sale, messo il parmigiano, l'uvetta, i pinoli. Abbiamo lessato la pasta molto al dente, abbiamo mescolato al sugo, messo in una teglia e infornato a 180 gradi per circa 20 minuti.